ciu 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 e vai metti in moto questo timer pensi vai ti seguo vai piano poi ce la facciamo ce la facciamo male ma qui c'è un gruppo davanti finale libero non è che ti vogliamo in coppia aspetta io ti sto dietro blocco un ruotino non c'è ok vai la cappettina è chiusa io si ok vai piano piano accelera gradualmente così ci sto dietro non c'è non c'è non c'è non c'è ci sta dietro no c'è non c'è quanto c'è ma c'è questo è un sauce Vieni dietro io Stavo guardando la mappa 2.80 Sì Diamoci dentro Lasciami un po' di mappa Guarda la mappa 2.80 5 Sia bene vedere Non ci sia una maniera Mappa la mappa Ora i due Ah, mappa Ma non ci sia Ma stai Poi Non so che abbia l'unica controlla. E così, non è così. Non vanno a manovarci direltre alle stanzioni, non lo vanno. E non parliarmi tutti i due. E così, non è così. spiego Grazie a tutti. Ok, a posto, vai pure avanti tu, io riduco. Ti passo il sinistro. Vedo, ok, accelero. Perfetto, ci sono. Perfetto, ci sono. C'è l'aeroporto di 10 gradi a destra. Fuoco, fuoco a destra, a destra, a destra. Vai, vai tu, ti seguo. Io ti copro, eh? Io cerco di starti in coda. E guarda che ho visto trafici anche a sinistra, mostro. Ok. Ho terminato. Uh, eccola, ce ne due. Ma esce quello più di... Però hai virato all'interno. Ce ne è uno che mi sta passando. Io avrei virato sull'ultimo. Ti vai a mettere gli altri in coda così però, eh? Ti avrei colpito l'ultimo io. C'è questa, c'è questa, ce ne ha due qua. Ok, sono dietro. Sei libero dietro? Sono tedeschi questi, sì. Tedesco è un T-51, questo. Eh, non lo so, sono dietro di te io. Sono più arretrato, a due ore sei. Sì, è un tedesco. Ok, tutto a manette, sono in superpotenza. No, cazzo, non spieghi a fare questo, ok? Non tedesco. Ok, vai gli davanti, vai gli davanti. Ok, attaccalo, ok, l'hai preso, l'hai preso. Dov'è finita? È sopra, è sopra. Dov'è? Adesso si spara. Eccolo là, eccolo là. Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Stavo attaccando, stavo attaccando la persona. L'hai preso, l'hai preso. Sì, sveglia. Ok. Ti ho buttato o no? Mi sono ancora in volo. Sì. Vai tu. Stanno combattendo sopra di noi qua. Io vado su, vado in alto perché c'è qualcuno sopra. È tedesco, ok, vengo giù. Mi sta tirando qualcuno, mi sono. Dove sei? Ti vedo. Adesso non vuol morire questa cosa. Ok. Spara un colpo. Stai sparando? Sì. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, 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 vieni. Hai dato qualche colpo in fusoliere io? Andato, andato, andato. Ok. Andato. Sì. Sì. Non l'abbiamo messo. Ok. Dove sei? Io sono proprio sopra lo speed che è caduto. Io, io, io. Sono dietro di me. Ok. Ok, facciamo cosa va? Vedo l'informazione. Non vedo aerei. C'è qualcuno? Sei tu dietro di me? Ti confermo. Ok, andiamo sopra la nubia. Vediamo che qua c'è un bel po' di casino. Occhio che tolgo la superpotenza. Così mi puoi prendere. Piazzo fino all'ultimo, pensavo fosse un 109. Ti frega un po' quei radiatori sulle ali. Assomiglia un po' a uno speed. Non so più di te, o le sei. Ok, c'è la base di velo. La vedo dietro di noi. Andiamo verso quella base lì. Andiamo sulla mappa. Velo americano. Però la possiamo attaccare quella. Ecco perché erano così vicini. Caccia in basso R3. Caccia in basso R3. Caccia in basso R3. Caccia in basso R3. Vai. Vai. Aspetta un minuto R6. Aspetta che non faccio il passamento. Sì, ok. Sto guardando cos'è. Di un passamento. Mi sembra un inglese, mi sembra. Vai, vai. Vai giù, io sono dietro di te. Bene. Guarda che sta virando. T'ha visto? Mi sembra bene. Sta virando. Mi sembra. Mi sembra. Mi sembra uno speed. Ok. Preso. Ottimo. Occhio. Mi stanno sparando. A te. No, erano i tuoi traccianti. Erano i tuoi. Ti preoccupare. Non c'era nessuno. Ero io dietro di te. È caduto? Yes, yes. Ottimo. Ottimo. E vai. Ti vedo. Io sto dietro di te. Alza in quota. Alza in quota. Non rimanere basso. Passiamo per salire qua. Perché... Occhio alla base che decollano dalla base di velo che è praticamente davanti a te. No. Come sei? Io ho finito nel lamo che dovrebbe essere dietro in teoria. Eh, sì esattamente dietro. Dove sei? Allora... Prua? Dammi la prua. Allora, prua è 120. 1,2,0. Ok. 100 metri di là da adesso. 120 per mille... Ecco di là. Ti vedo. Stai salendo. Ti vedo. Ok. In vista. Sei contro se. Sto venendo da... Vai sulla città. Yes. Come sei a munizioni? Eh... Quasi finita. Ti muro tutto. Tutto? Tutto? Eh sì. Vabbè andiamo... Andiamo a otterrare allora. Non ti vedo ancora. Sto dietro di te. Ora sei. Stessa quota. Stessa quota. Vai alla base. Questa è la base nostra. Eh... Questa è la base nostra. Sargentina. Sargentina. Io ti proteggo in quota. Tanto io sono... Io ti proteggo in quota. Vai... Vai... Vai sulla cosa fumo giallo e puoi rifornire. Io faccio cosa. Io faccio cosa. Lo traffico. Lo traffico. Dove? Dove? Chi è quello vicino a te? L'hai identificato? Aspetta. È sceso? Ok. Ok. Sicuro? C'è un altro traffico. C'è un altro traffico. Peggio. Guarda. La base viene lì. È qua. Dentro di noi. Era qua. Eri sulla base praticamente. Lo vedi? Ho toccato la città. Sì, sì. Ok. C'è un buco nella pista. C'è un buco nella pista. C'è un buco nella pista. Eh eh eh. Cos'è? È scelta questa. Cos'è? È scelta. Ah boh. È importante che puoi rifornirti là. Vai tranquillo. Ah, con la... Adesso adesso... Si è attaccata la città. È a est della città praticamente. Ti ricordi la combinazione al casting? Sì. Sì, sì. Contro... Contro destro R. Eh... Rifornisce carburante. Contro destro F. No, scusami. Contro destro A. Armi. Contro destro F. Fuel. Ma devo spegnere il motore? Sì, devi spegnere il motore. No. Quando spegne il motore, lui inizia le riparazioni. Ecco perché non mi riforniva la porta. Col respiro... givencarsi alات biti. ... ... Là... 다�ła... Wirat精... Chiùchua... ... sono in quota, sono a 4.000 metri adesso sono qui un po' ad ovest del campo, in modo tale che se qualcuno arriva riesco ad intercettarlo prima che arrivi sul campo c'è un aereo basso che sta andando verso la condizione ovest, quindi presumo che sia tedesco contro l'ero o contro l'ero contro il destro eh, A e F se fai contro l'F, se fai veloce riesci a selezionare anche il quantitativo di carburante devi fare tac tac e ti da in percentuale in base a quanto lasci il tasto premuto, capito? quindi siamo molto vicini, quindi non rifornire al pieno se ci riesci ah no, beh giusto sai, carburante non rifornire ma quanto altro carburante non ti serve qua? e control destro F, rifornisce? ok, sono quasi arrivato a Vello, io sto vedendo l'altro aereo che sta passando pian con la base non, fammi vedere, fanno vedere, che è stato attivo, auto-marchia, rifornisco, mi viene il dubbio se è nostro o no sono a 5000 metri adesso, sono praticamente arrivato quasi sull'aeroporto nemico non vedo aerei però non c'è traffico c'è un aereo lì c'è vedo un aeroplano non so se sta attaccando mi butto giù è chiaro potrebbe anche essere vediamo se spara sulla base se spara o se sgancia una bomba capisco cos'è non ha sparato quindi presumo che sia alleato ok gli vado addosso vediamo un po' cos'è si ha un speed si ti va è solo eccolo la e alla contraire a me mi ha sparato porca l'occhio eccolo la che sta virando ma ce l'ho ancora adesso mi sta prendendo vediamo se lo freghiamo col motore eccolo è rimasto basso eh però non so che è rimasto basso così adesso lo vado a prendere adesso lo vado a prendere un po' come n'è un altro ma devo essere vicino mazza quanto che legge madonna com'è legato ah c'è un altro c'è un altro porca giura e chi è quello là ahia due ce l'ho due ahia questo mi è venuto in coda eh un mustang ce l'ha con me come sono lì eh sì eh sì ultimo due mentre sono due contro ah mi sta massacrando via 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 ah mi hanno colpito il motore mi hanno colpito il motore mi hanno messo nel gioco così e via via un chiodano ah mi hanno preso il motore ah mi hanno preso il motore ah mi hanno preso il motore porca no il motore no proprio l'unica cosa che avevo cantare ahah niente mi hanno preso ok altissimo il traccio se non c'è qualcosa di più vicino ah c'è gli auto di due dietro mi stanno mi stanno prendendo la cola ah niente mi hanno ferito ecco la lancio mi lancio ok beh non mi hanno ammazzato però è in cazzo contro lo speed e un mustang niente non ce l'ho fatta sai lo speedfire ce l'avevo eh? rispetto ok arrivo